Presidente Marsiglio, la posa della prima pietra per l'allungamento della pista all'aeroporto è un momento storico atteso da 20 anni? Atteso da almeno 20 anni, io ricordo quando Berlusconi venne a Pescara e mi disse, anche lui aveva questa spina nel cuore, cioè dal 2002 che avevamo finanziato, previsto questo lavoro, nessuno era riuscito a farlo. Noi siamo riusciti nell'impresa, qualcuno sosteneva che Enac non l'avrebbe mai autorizzato, che c'erano delle difficoltà oggettive insuperabili, non era così, il duro lavoro della nostra squadra messo insieme dall'amministrazione regionale, dalla gestione della società di gestione dell'aeroporto, della Saga, insieme alla collaborazione istituzionale con Enac e Ministero ha portato a questo risultato. Oggi finalmente si può stendere questo asfalto, allungare di quasi 400 metri la pista, trasformare l'aeroporto internazionale d'Abruzzo in un aeroporto intercontinentale, aperto al turismo delle radici e non solo, dall'aeroporto d'Abruzzo si potrà partire e arrivare da ogni angolo del mondo. Questo apre delle prospettive molto, molto importanti per il nostro territorio. Quanto tempo ci vorrà per la conclusione dei lavori? Questo chiediamo alle tecnici, non sarà comunque un lavoro molto lungo perché poi fondamentalmente con pochi mesi di lavoro si realizza tutto l'intervento, la stesa dell'asfalto in particolare è roba di pochi giorni, una volta bonificata tutta l'area, realizzato tutto l'attrezzaggio tecnologico perché naturalmente non è una pista di un aeroporto, non è semplicemente una lingua d'asfalto, deve essere attrezzata tecnologicamente per consentire ai voli di atterrare e decollare in sicurezza e di essere all'altezza di un aeroporto moderno e sostenibile. Grazie a voi.